Giovedì 24 maggio Giovedì 24 maggio Giovedì 24 maggio La protesta del trasporto pubblico, domani sciopero dei bus, l'Abruzzo va a piedi e ci saranno disagi, soprattutto i pendolari per gli studenti, per coloro che effettuano gli spostamenti in città con i mezzi pubblici. E poi Pescara, via libera al nuovo supermercato, vedete il titolo di spalla. Poi altri titoli, la cronaca giudiziaria Civitacuana, non ha ucciso il figlio, madre assolta dopo 4 anni. E poi Pasticcera Pescarese sfiora la supervincita alla trasmissione I soliti ignoti in onda su Rai 1. Vediamo in alto un titolo che riguarda la politica nazionale, ma che ovviamente interessa tutti noi, perché Mattarella, il Presidente della Repubblica, dà l'incarico al Professor Giuseppe Conte. Nasce il governo Movimento 5 Stelle, lega da oggi le consultazioni per scegliere i ministri e tra le prime dichiarazioni del neopremier, c'è questa che vediamo anche nella parte alta della pagina, Conte dice sarò l'avvocato del popolo. Vediamo la prima pagina del centro di Chieti Lanciano Vasto, ritroviamo ovviamente il titolo che riguarda la tragedia di Francavilla. Poi ci spostiamo a Chieti, fondi del comune Salvano, il Marrucino e poi Bucchianico, fuga di gas nella Roulotte, ustionato un 44enne. E poi Lanciano, bambino non vaccinato, la scuola lo sospende. Parliamo anche di lavoro, vedete questo titolo nella parte alta, a Tessa, la Oniwell, niente, cassa, integrazione. E poi Regione, fondi alle 19 cop abruzzesi che producono vino. Vediamo anche la prima pagina del centro, edizione di Teramo, vedete il titolo di apertura, si indaga su centinaia di appalti, inchiesta sui cantieri. Nel Mirino anche i lavori urgenti. E poi le cronache, scontro sfiorato tra treni vanno a giudizio in sei. E poi le amministrative di Teramo, San Nicolò e i candidati, ascoltateci di più. Dunque la frazione del capoluogo Aprutino chiede maggiore attenzione ai candidati sindaci. E poi all'Università, giornata della legalità, per oltre 700 studenti. All'Università di Teramo in questo caso. Siamo alla pagina del centro, la prima pagina di L'Aquila, Avezzano e Sulmona. Voto è il giorno della verità. L'Aquila e il Tar decide sul riconteggio delle schede elettorali. Siamo ancora all'Aquila, 60 negozi su mille riaperti in centro storico. E poi la tragedia del Fucino morì annegato nel canale in quattro sotto processo. E poi nuove polemiche, la vergogna delle strade nel parco d'Abruzzo. Andiamo a vedere anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo del quotidiano Il Messaggero. Voleva ucciderle con la pistola. Fausto Filippone aveva chiesto un porto d'armi ed il 15 maggio aveva superato positivamente la visita. Aveva un piano per usare un'arma contro moglie e figlia. Ci spostiamo a Pescara, un pentito pronto a parlare trema la mala di Pescara. Massimo Fantauzzi, il killer del pub di Montesilvano, ha avviato la collaborazione con la giustizia. Il processo bimbo morto, assolta, la madre. E poi la bomba ecologica, vedete il titolo con corredo di articolo di spalla. Niente via per i veleni di bussi, parte la bonifica. In basso siamo a Chieti, reati fiscali, fratelli sotto accusa. E poi in alto Teramo, violenza in pieno centro, la gente chiede polizia e telecamere. Vediamo poi un altro titolo che riguarda Vezzano. La pipì danneggia agli alberi, piazza Torlonia, vietata ai cani. Infine l'Aquila, rischio anatrazoppa, ore decisive per la sentenza del Tar. Andiamo a vedere la prima pagina del quotidiano La Città. Giulia uccisa prima di essere gettata. Il giallo di Tortoreto, la criminologa Bruzzone, esclude che la ragazza si sia lanciata da sola. Vediamo in alto altri titoli. Giudiziari, Ansei a processo per il disastro sfiorato sui binari. E poi riciclaggio, chiesto il processo per Carlo Ciapanna. E poi, dopo la rissa, allarme sicurezza a Giulianova. Ci spostiamo a centro pagina, allarme fratino, Natura rischia di scomparire dalle nostre spiagge. E poi un altro titolo, inchiesta bis sulle concessioni Anas. Nuova indagine da parte della Procura per abuso d'ufficio. Lasciamo anche la prima pagina del quotidiano La Città. Poi ovviamente tra poco torneremo a vedere le pagine interne del quotidiano La Città del Messaggero. Ma come sempre, e anche ovviamente quelle del quotidiano Il Centro, ma come sempre ora concentriamoci sull'edicola nazionale per vedere i titoli dei giornali. Partendo dal Corriere della Sera, ovviamente tutti i titoli sono incentrati sulla formazione del nuovo governo, dell'incarico al neopremier Conte, i paletti del Colle. Vedete il titolo del Corriere della Sera. L'Italia resterà in Europa, sarò l'avvocato del popolo. Il Quirinale si preoccupi della stabilità del Paese. E poi lo scrittore che ha scavato nel buio dei nostri cuori è scomparso Philip Roth, grande scrittore americano ma di origine ebraica. E poi la Repubblica, Conte, Premier, sia l'Europa. La Lega sfida il Colle su Savona. Mattarella chiede garanzie. Salvini insiste sul ministro anti-euro. Subito la flat tax e l'abolizione della Fornero. Poi vedete in basso la notizia di sport, perché Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Napoli, firma per tre anni e dunque si appresta a guidare la formazione partenopea dopo la fine dell'era Sarri. Il Fatto Quotidiano, Giuseppe Conte, Premier, incaricato, l'equilibrista. Vedete il titolo del Fatto Quotidiano. Il messaggero, pagina nazionale, prima pagina nazionale, incarico a Conte, il Colle Vigila, il giurista convocato da Mattarella, sarò avvocato difensore del popolo Italia, collocata nell'Unione Europea. E poi anche sul messaggero nazionale troviamo un articolo che riguarda la tragedia di Francavilla. La follia del manager ignorata dai medici. Sì, al porto d'armi ha ucciso la moglie e lanciato la figlia dal viadotto, ma per gli psichiatri Filippone non aveva disturbi. Siamo a Libero. Mattarella sceglie la mela guasta Conte, Premierino, questo è il titolo del Quotidiano Libero. Il capo dello Stato dà l'incarico di formare il governo ad un giurista che ha gonfiato le proprie esperienze professionali, scrive Libero. L'uomo indicato da Movimento 5 Stelle e Lega annuncia, sarò l'avvocato difensore degli italiani, ma il Quirinale già gli riscrive il discorso. Il mattino di Napoli, anche qui la politica con il titolo di apertura in alto, Conte via Libera con i paletti del Colle. E poi vedete la nuova era, Carlo Ancelotti e De Laurentiis, il presidente del Napoli, dopo, in questa foto simpatica, dopo la firma del contratto. Ancelotti guiderà i partenopei nel prossimo campionato, per tre stagioni dal prossimo campionato. Parliamo anche di Confindustria, il monito del presidente Boccia, che dice investimenti, non si torna indietro. E poi il sole 24 ore, politica ed economia in primo piano, politica con Conte Premier incaricato, consapevole dell'Italia collocata nell'Europa. E poi, economia forte, politica forte, il presidente di Confindustria nell'Assemblea Generale dice chiarire i costi delle promesse elettorali. Europa, imprescindibile. Dal sole 24 ore al manifesto, Populandia, questo il titolo del quotidiano, il manifesto, con, vedete la foto in primo piano, del neopremier Conte, un avvocato a garanzia del contratto Lega Stellato, Mattarella accorce il passo e dà il mandato a Giuseppe Conte, e l'incaricato parla di governo, del cambiamento. Siamo al giornale, Mattarella si arrende, prima le minacce grilline al Quirinale, poi arriva l'incarico a Giuseppe Conte, che giura sull'Europa e sulle banche. Silenzio di Berlusconi, alleanza a rischio. In questo caso si parla dell'alleanza nel centrodestra. Il quotidiano La Verità, Mattarella cede su Conte, ma prende di mira la Lega. Il presidente della Repubblica spera ancora di sfruttare la debolezza del Premier, per condizionare la scelta dei ministri, soprattutto quelli di economia e interno. L'avvocato d'ufficio, vedete il titolo del tempo, il Premier Conte accetta l'incarico da Mattarella, sarò il difensore del popolo italiano. E poi Savona al tesoro e braccio di ferro, tra la Lega ed il Quirinale. Siamo alla stampa di Torino, Conte sono l'avvocato del popolo, superato lo scoglio del curriculum, col pressing di Salvini e Di Maio. Il designato dice, rispetteremo l'Europa. Dal quotidiano torinese ci spostiamo al secolo d'Italia, tocca a Conte, vedete la foto con il titolo del secolo d'Italia, è la foto che ritrae il presidente Mattarella e il neo-premier Conte, durante i colloqui al Quirinale. Il secolo XIX, il quotidiano genovese, sarò l'avvocato del popolo, Conte Premier incaricato, conferma la collocazione europea dell'Italia. Siamo ad avvenire, il quotidiano della conferenza episcopale italiana, comunque in Europa. Conte Premier incaricato, dice, sarò avvocato del popolo, cercherò alleati per difendere gli interessi nazionali. E Confindustria nell'Assemblea non si fida senza coperture. Mattarella dice, sarò al suo fianco, attenti ai conti. Lasciamo avvenire, lasciamo anche l'edicola nazionale, abbiamo esaurito i titoli, le prime pagine dei quotidiani. Oggi in edicola, torniamo ai giornali locali, ai giornali abruzzesi, ripartiamo dal centro, ovviamente dalla tragedia di Francavilla, perché a quattro giorni da questo incredibile fatto accaduto tra Chietiscalo e Francavilla, si continua ad indagare per chiarire cosa è accaduto, soprattutto nelle ore precedenti, nell'ora precedente dell'arrivo di Fausto Filippone lungo il viadotto a lento dell'autostrada A14. Vedete il titolo del centro a pagina 2, il dublice delitto, Fausto poteva essere bloccato in tempo, era vicino al corpo della moglie, quando è arrivata la polizia, determinante la testimonianza del medico, che abbiamo ascoltato anche noi, abbiamo portato ieri i nostri microfoni, tra poco vedremo le dichiarazioni, ascolteremo le dichiarazioni del medico, che dice infatti che in quei momenti in cui è arrivato il 118, poi la macchina della polizia, l'uomo si aggirava nei pressi della palazzina, dove a terra, nel cortile interno, c'era il corpo della moglie agonizzante. Filippone, idone a usare la pistola, per lo psichiatra che lo ha esaminato, non aveva problemi, poteva anche sparare. E poi in basso, così la ricordano i ragazzi del liceo scientifico da Vinci di Pescara, la porteremo sempre nel cuore, ricordo di Marina Ingrilli, proprio nei suoi ragazzi, i suoi ragazzi della classe del liceo scientifico da Vinci. Ludovica e Marina, l'addio insieme, domani ci sarà il funerale di mamma e figlia, oggi in forma privata, il funerale del marito. Era diventato troppo cupo, parla il personal trainer di Filippone, si confidò con me e lo dissi alla sua famiglia. Vedete nella foto il personal trainer che allenava in palestra il dirigente d'azienda. E poi vedete di fianco, vedete di fianco questa foto con in basso il piazzale interno, il cortile interno della palazzina da dove è precipitata Marina Ingrilli, nel riquadro piccolo, il medico Salvio, il dottor Salvio, il testimone, il primo che ha soccorso la donna. Come detto, tra poco vedremo il servizio e ascolteremo anche le sue dichiarazioni. Poi ci sono le pagine di cronaca e di politica nazionale dal centro, ne vediamo una, la prima, la più importante che riguarda la formazione del nuovo governo, la svolta, la scelta del Colle, via Libera Conte, incaricato dal presidente Mattarella di formare il governo. E poi in basso la trincea di Lega e Movimento 5 Stelle su Savona restano i nodi sugli altri ministeri, possibile un piano B in ribasso, ma solo agli esteri. Saltiamo le pagine di cronaca e di politica nazionale che abbiamo visto anche poco fa nell'edicola nazionale con le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola e torniamo a parlare di cronaca d'Abruzzo perché domani ci sarà la nuova protesta e il nuovo sciopero nel trasporto pubblico. Tre sindacati, CISL, Will e Faisca CISAL contro due regioni, troppi ritardi per approvare la delibera sui servizi minimi. Domani dunque ci saranno disagi per gli abruzzesi con lo sciopero che ovviamente salvaguarderà solo le fasce orarie di garanzia. Per il resto ci saranno ovviamente problemi per i tanti pendolari che si spostano con i mezzi pubblici nella nostra regione. Intanto Forza Italia cerca di salvare i lavoratori sistema in basso. Il ruolo delle regioni a Pescara il convegno al dibattito promosso dal sottosegretario Mazzocca ci saranno partecipazioni importanti tra cui Smeriglio e il vice il vice di Zingaretti dunque del presidente della regione Lazio l'appuntamento è per questo pomeriggio e poi Oniwell niente cassa integrazione il ministero spegne le ultime speranze dei 331 che dopo aver perso il posto dovranno anche restituire 2000 euro siamo alla discarica di bussi la bonifica può ripartire entro l'estate è stato sbloccato il progetto e poi in aula la sfiducia ad Alfonso ma senza i numeri giusti domani in consiglio regionale un altro titolo che riguarda le politiche agricole un milione e mezzo a 19 aziende fondi alle cooperative vitivinicole della nostra regione l'elenco è online dopo le polemiche del bando precedente andiamo a vedere un'altra pagina dal quotidiano il centro siamo alla pagina di Pescara si parla della destinazione del futuro della zona di via Bologna vedete ok del consiglio addio parcheggio via libera del comune al supermercato approvata la delibera per il cambio di destinazione d'uso assenti le consigliere del Movimento 5 Stelle cestinati 90 emendamenti i proponenti parlano di una iniziativa che rivitalizza tutta la zona e crea lavoro dunque il parcheggio di via Bologna sarà sostituito da un supermercato inchiesta Parco Lavino d'incecco dal GIP chiarita la posizione chiesta l'interdizione per l'ex dirigente della provincia e suo avvocato dice fornita una ricostruzione chiara e in provincia un concorso contro gli abusi sulle donne e a Pescara giornata della legalità al Parco Sabucchi ricordata la strage di Capaci nell'evento voluto come ogni anno dal fondatore della LAD Cordova è sempre a Pescara presentata a Villa Sabucchi la terza edizione di Pescara nei parchi con la collaborazione tra i gestori le associazioni che gestiscono i parchi cittadini ed il comune di Pescara la cronaca siamo sempre nel capologo quadriatico ladri nel negozio di ottica rubati 200 occhiali da sole il colpo è stato messo a segno a elice ad opera di una banda di professionisti e in via caduti per servizio danni alle macchine in sosta dopo la lite con il padre spaccata al bar Bibà vetro rotto per 50 euro e poi Pescara Abruzzo presentazione del romanzo tra i finalisti dello strega Borgomarino rifiorisce grazie alle donne del quartiere siamo sempre a Pescara nella zona sud della città si sono costituite in comitato insieme al Sunia riqualificano la zona ora aspettano un centro sociale vedete le foto di Borgomarino e queste donne questi abitanti residenti del quartiere a lavoro nei giardini proprio della zona di Pescara sud l'altra faccia della medaglia la casa di Alfonso invasa dagli scarafaggi la denuncia del disabile degli altri inquilini di via Revelle non si fa nulla contro ratti e insetti scuole sicure chiesti fondi alla regione il comune partecipa al bando per gli adeguamenti sismici interventi in quattro strutture finiti i lavori in via Rubicone e poi pasticcera pescarese sfiora la super vincita in tv ai soliti ignoti nel programma di Rai 1 siamo ancora a Pescara Ironman le elezioni spostano il percorso l'appuntamento è per il 10 giugno la gara di ciclismo che attraversava i paesi si svolgerà solo lungo l'asse attrezzato perché in alcuni centri della provincia si andrà al voto andiamo ancora avanti ci spostiamo a Montesilvano Montex prove di protezione civile sondazione frane allagamenti da domani campo base elezioni sabato esercitazioni in tutta la città e poi il gemellaggio tra Montesilvano e la cittadina emiliana di Zocca approda in consiglio comunale Zocca e il paese natale del cantante famosissimo Vasco Rossi chiosco alla pineta si cerca gestore siamo sempre a Montesilvano pubblicato il bando di gara per l'affidamento per tre anni della struttura di via Sele ci spostiamo da Montesilvano a città Sant'Angelo wifi libero a Marina il comune punta i fondi europei il sindaco Gabriele Florindi annuncia la partecipazione al progetto wifi 4 EU che prevede uno voucher di 15.000 euro e a Pianella si parla invece di elezioni di amministrative ecco Pianella vicina Filippone ci riprova uno dei candidati alla carica di sindaco in basso Montesilvano gli atleti della ginnastica Igea le finali nazionali del Xen a Spoltore il consigliere pace non ha aderito alla Lega questa la precisazione siamo a Francavilla al mare ripascimento ce l'ha ditta i lavori partono a breve l'intervento inizierà la prossima settimana e durerà 5 giorni Padovano della Sib dice entro i primi di giugno le spiagge devono essere pronte ancora a Francavilla Porto nessun ritardo e a San Giovanni Teatino pizza in tour vince Maria Casale andiamo avanti andiamo a vedere ancora un'altra pagina del quotidiano il centro siamo sempre nel Pescarese in questo caso nell'area Vestina e nella Val Pescara cronaca giudiziaria infanticidio mamma assolta ma è condannata per calunnia Civitacuana la giovane all'ottavo mese di gravidanza era accusata di aver provocato la morte del feto lampioni rotti e zone bui a Moscufo ferri interroga e poi appenne palazzo de Cesaris subito in sicurezza dopo i crolli la relazione dei vigili del fuoco non si esclude un aggravamento delle condizioni in basso parliamo ancora di elezioni in un altro comune del Pescarese siamo a San Valentino solidarietà e sviluppo nel segno di Antonio Saia per tanti anni sindaco del centro della Val Pescara siamo a Chieti si parla di teatro senza soldi i fondi del comune salvano il Marrucino ancora in ritardo i 500 mila euro promessi dalla regione di primo mette i soldi per stipendi e spettacoli del bicentenario e poi la conta in consiglio sul bilancio la maggioranza fa appunto la conta occhi puntati su otto consiglieri Thomas di Amici alle feste di settembre siamo a Lanciano dopo il concerto di Massimo Ranieri previsto il 16 svelato l'ospite musicale per i più giovani delle feste che si terranno nella città frentana siamo a Castelfrentano dove è stato sospeso dall'asilo bimbo non vaccinato i genitori denunciano l'istituto aspettavamo che la ASL ci chiamasse per un colloquio la preside ho applicato dice la normativa e a Lanciano i Lions donano 500 bavaglini in basso a Bucchianico fuga di gas nella roulotte 44enne ustionato violento scoppio in un camper posteggiato nei campi l'uomo è stato ricoverato al centro grandi ustionati dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma siamo a Dortona sempre in provincia di Chieti la strada per il mare tra frane e rifiuti ora servono lavori nel degrado la provinciale di Contra Darielli appello alla provincia necessari interventi prima dell'estate a Tollo due giorni dedicati al piacere del vino e a Rocca San Giovanni nuola discarica di amianto di rito così si salva il paese proseguiamo con un'altra pagina del quotidiano il centro siamo a Teramo si indaga su centinaia di cantieri pubblici tra gli atti sequestrati dalla procura numerose procedure di somma urgenza soprattutto nei comuni coinvolti nei tre comuni coinvolti e poi Mazzette processo al capo cantoniere Anas un teste mi disse che il sistema era così in basso lavori nel traforo meno acqua in 13 comuni del Teramano messa a scarico la sorgente più vicina alle gallerie l'osservatorio indipendente dice è uno spreco scontro tra treni sfiorato in 6 a giudizio citazione diretta per dipendenti di rete ferroviaria l'accusa ignorate le regole per la corretta verniciatura dei binari e poi Tortoreto teme che il compagno si uccida e chiama i soccorsi ma è un falso allarme e poi Giulianova i cani antidroga scovano cocaina in un cespugno attentato di Silvi sentiti i primi testi in aula in due sono a processo per il tentato omicidio del direttore della motorizzazione civile di Chieti e a Teramo iniziativa antimafia all'università con 700 studenti per ricordare Falcone e Borsellino più avanti vedremo anche in questo caso un servizio ma ci spostiamo a Roseto la pioggia allaga l'asilo nido ventre a ogni forte scorcio d'acqua si infiltra nel tetto e cade nell'altro i genitori protestano il comune promette interventi ancora Roseto pista ciclabile disagi per i lavori in basso Gianluca Ginobble del volo tiene a battesimo due libri il cantante presenti i volumi degli studenti del Saffo e del manager Torpedine andiamo ancora avanti da Roseto ci spostiamo a Silvi urla e fischi nel confronto tra candidati del vecchio punge Comignani e si alzano i toni la Lega clima poco rispettoso Torre Cerrano senza parcheggi e se piove l'aria è impraticabile il problema che si ripropone ogni estate in basso siamo ad Atri un evento su scuola e sport si conclude infatti il progetto fischio voluto dall'istituto comprensivo domani l'ultimo atto di questa manifestazione nel teatro comunale di Atri siamo all'Aquila comune con il fiato sospeso riconteggio dei voti quello di oggi è il giorno del verdetto i giudici del Tar si sono riservati la decisione sul ricorso elettorale dopo un'udienza durata quasi quattro ore andiamo ancora avanti ci spostiamo nella parte bassa della pagina ex poliziotto condannato a tre anni e il tribunale colpevole di atti persecutori su una coppia e violenza sessuale e poi la vicenda drammatica ricorderete dell'incidente che capitò all'elicottero del 118 secondo le indagini che leggiamo in questo articolo l'elicottero precipitò a causa della scarsa visibilità in basso siamo a Tagliacozzo morto l'uomo dei rosari di Gerusalemme e poi truffa sui funerali di stato prescrizione per il taffo andiamo avanti siamo alla pagina di Avezzano del centro negato nel canale quattro rinviati a giudizio il gup strada insicura tutti sapevano dei numerosi e gravi incidenti la marsicana 83 è da vergogna barria il nuovo asfalto non c'è e riesplode la polemica nei paesi del parco e poi in basso sul mona palloncini bianchi per l'addio a Pino Cavicchia folle funerali del ristoratore si indaga per verificare se è stato indotto al gesto estremo siamo ancora all'Aquila si parla di beni culturali di officina all'Aquila tornate alla luce dei tesori di due chiese e la rassegna di riqualificazione urbana prima giornata di visita a Santa Maria dei raccomandati e a San Silvestro vedete le foto in basso videogame ambientato nei laboratori del Gran Sasso i progettisti è nato anche per avvicinare gli studenti alla fisica domenica è visitabile grazie all'Open Day siamo arrivati alle pagine dello sport ma dobbiamo attendere per parlare di sport ora lo faremo tra qualche istante dopo una piccola pausa andremo a vedere le pagine interne dell'inserto Abruzzo del quotidiano il messaggero e poi le pagine del quotidiano la città a tra poco di nuovo in studio per la seconda parte di mattino 6 siamo alle pagine interne dell'inserto Abruzzo del messaggero la tragedia del viadotto di Francavilla voleva uccidere moglie e figli a colpi di pistola Fausto Filippone aveva chiesto il porto d'armi alla questura e non erano emerse fragilità psichiche poi ha cambiato piano e intanto vedete quest'altro titolo funerale unico per Marina e la piccola Ludovica ma noi andiamo a vedere il servizio che fa il punto anche sulle indagini che proseguono le indagini della questura di Chieti e andiamo soprattutto ad ascoltare le parole del medico di Chieti tra l'altro inquilino della palazzina di piazza Roccarasso da dove domenica mattina intorno a mezzogiorno era precipitata Marina Ingrilli testimonianza importantissima fondamentale per le indagini proprio quella del medico che per primo ha soccorso la donna vediamo era subina con il volto verso l'alto immobile appena cominciato a toccare per vedere il polso ha cominciato a muovere la testa e quindi ho visto che era ancora viva chiaramente dalla posizione del corpo la pozza di sangue mi sono reso conto che era caduta dall'alto e ho pensato subito all'ertare il 118 ma già mi avevano preceduto dei condomini la scienza ha confermato quello che la logica aveva suggerito già domenica scorsa il volo di Marina Ingrilli dal balcone dell'appartamento al secondo piano della palazzina di piazza Roccarasso non è stata una caduta accidentale nemmeno un suicidio a spingerla giù dal balcone è stato il marito Fausto Filippone le prime indiscrezioni trappelate sull'esito dell'autopsia sul corpo di Marina Ingrilli eseguita all'obitorio di Chieti dal medico legale Cristiano Dovidio non lascerebbero spazio a dubbi traiettorie e tipo di lesioni indicano con sufficiente chiarezza che Marina Ingrilli è stata spinta forse con l'ausilio di una scala trovata nell'appartamento di Filippone solitamente affittato agli studenti C'erano dei condomini c'era lei ma da queste parti c'era anche il marito della donna lei lo ha visto? Allora ci sono rimasti diversi minuti da solo dopo aver assicurato l'intervento del 118 ho notato una persona che girava qui intorno intorno a me non è che si è avvicinato subito al corpo tant'è che io pensavo che fosse uno degli spettatori e gli ho chiesto se sapesse cosa era successo e lui mi ha risposto è caduta dal secondo piano è una domanda una risposta così io ho pensato subito ma era il marito della donna non lo sapevo io non conoscevo ma adesso può dirlo era il marito era il marito perché poi ho chiesto ma conosce la signora e lui mi ha risposto è mia moglie quindi io comunque prestavo attenzione alla signora che si agitava sempre di più cercava di alzarsi addirittura cominciava a sanguinare vistosamente poi lui lui invece era distante passeggiava nervosamente contro il muro qui nel recinto farfugliava qualche cosa ma non è che urlava o si disperava ecco poi sono arrivate le forze di polizia no poi ha fatto una cosa che ho notato subito molto strana mi ha chiamato lui e mi ha dettato un numero telefonico e mi ha detto vado a prendere mia figlia a me la cosa è sembrata molto strana e gli ho detto tu resti qui finché non arriva il 118 lui non ha risposto è rimasto lì sempre muovendosi nervosamente poi è arrivato il 118 ne sono arrivate due di ambulanze insieme a una volante della polizia e a questo punto mi sono disinteressato a lui ma seguitava diciamo a vedere la signora ad assistere i soccorsi lei ovviamente è un medico si era reso subito conto che le condizioni della donna erano molto gravi si sicuramente c'era una frattura molto grave del cranio addirittura la signora a tratti urlava però tra un urlo e l'altro era silenziosa era ferma immobile io la chiamavo perché poi al marito ho chiesto come si chiamava mi ha detto il nome Marina io chiamavo Marina per vedere se dava qualche segno ma purtroppo lo sguardo era sempre fisso in un'unica direzione cosa poi è accaduto dopo i soccorsi alla donna e al vaglio degli inquirenti di fatto però nessuno ha impedito a Filippone di andare a prendere la figlia a casa dei nonni a Pescara nemmeno la pattuglia della polizia che era arrivata assieme alla seconda ambulanza del 118 in piazza Roccaraso una circostanza che sta lasciando sgomento il fratello di Marina Ingrilli Francesco che a lanza ha dichiarato faccio fatica a credere che questo possa essere sfuggito ad una pattuglia di polizia Filippone quindi ha potuto completare indisturbato quello che sembra a tutti gli effetti un piano disegnato a tavolino per distruggere la sua famiglia e se stesso arrivando sul viadotto a Lento della 14 a Francavilla e lanciando nel vuoto Ludovica prima dell'epilogo suicida dopo sette ore di trattative con le forze dell'ordine resta un mistero alla motivazione potrebbero esserci motivi personali interni alla psiche di Fausto Filippone provato dalla morte della madre a cui era molto legato oppure motivazioni legate al lavoro o ancora un movente passionale c'è circa un 10% di persone che soffrono di patologie psichiatriche cosiddette nascoste che non riescono ad aprirsi con i medici di famiglia con i familiari non lo fanno vedere sono quelli che magari sono un po' cupi sempre preoccupate oppure anche allegri vuol dire che è un altro tipo di patologia che poi improvvisamente per un qualche cosa commettono queste atrocità insomma che cosa può essere accaduto in quei secondi anche alla bambina secondo lei si è resa conto di quello che stava per accadere perché molti si chiedono probabilmente c'è stata o non c'è stata una reazione di questa bambina che poteva essere forse anche sotto shock certamente la bambina ha vissuto attimi di terrore notevole perché fidarsi del padre e poi fare questa orribile fine penso che non era sicuramente un gioco per lei qualcosa deve aver capito intanto la magistratura ha concesso il nulla osta per i funerali di Marina Ingrilli e della figlia Ludovica probabilmente le sequie ci saranno venerdì in maniera separata rispetto a quelli di Filippone Come abbiamo anche letto ci saranno domani i funerali della donna e della figlia in forma privata oggi invece le esequie di Fausto Filippone Siamo alla cronaca di Pescara del messaggero Movimento 5 Stelle in ritardo sia al supermercato l'assenza delle consiglieri Alessandrine e Sabatini in aula fa decadere 90 emendamenti a loro firme la delibera è passata emersa con evidenza la frattura nel gruppo pentastellato le consigliere pensano a un esposto di Pillo no comment Lavino interrogato Dincecco il GIP decide sull'interdizione il dirigente ha fornito una ricostruzione utile a dimostrare le stranità ai fatti contestati ha detto l'avvocato spagnolo in basso sport musica e teatro maxifesta in tutti i parchi pubblici di Pescara ieri l'iniziativa presentata dal vice sindaco del capoluogo adriatico Antonio Blasoli sirene e luci blu gli angeli sempre svegli per chi soffre questa pagina dedicata ai volontari della Croce Rossa sempre pronti ad intervenire 24 ore su 24 in basso la provincia non paga conservatorio al buio e poi Parastic Twin il bello dell'Abruzzo al cinema andiamo ancora avanti la cronaca giudiziaria a Fantauzzi si pente ora trema la mala il killer del pub di Montesivano confessa i dettagli del delitto bevilacqua e si dice pronto a votare il sacco sugli affari sporchi di Pescara fu un'esecuzione premeditata si aggrava la posizione del complice Mancinelli il movente è una partita di droga e poi ancora la cronaca giudiziaria perse il bimbo all'ottavo mese il giudice non fu infanticidio in basso calci e pugni contro le auto folle bloccato a Fontanelle e poi fiori del dovere premiati a Palermo studenti pennesi nell'ambito dell'iniziativa della nave della legalità siamo all'Aquila Anatra Zoppa niente rinvio sentenza del Tar attesa a breve e poi i tesori chiesa di San Silvestro pronta entro Natale in basso a centropagina i servizi in forma giovani apre lo sportello a scienze umane e poi la tragedia dell'elicottero precipitato si parla in questo articolo delle cause del disastro siamo ancora alle pagine interne del quotidiano il messaggero andiamo a vedere la cronaca di Avezzano sul Mona via i cani la pipì danneggia gli alberi fuori fido dalla centralissima piazza Torlonia su disposizione dell'assessore Presutti sul Mona oggi la presentazione del libro su Santa Croce mentre a Celano bufera politica sui contributi al piccolo marsicano spostiamoci più in basso ancora sul Mona pronto il rendiconto non sarà una passeggiata è sempre nella cittadina ovidiana domani la novità l'aperitivo in corso spostiamoci di nuovo ad Avezzano premio Palmieri l'ex arsa all'ex arsa la cerimonia e poi Fucino Camorra salta l'associazione a delinquere si parla dell'inchiesta sull'operazione della dia di qualche giorno fa siamo a Chieti evasione fiscale milionaria ha chiesto il processo per i sarni vedete questo articolo nella parte alta della pagina per l'accusa i registratori di cassa dei negozi vennero manomessi e poi le spine DUP e tagli sindacati incalzano il sindaco siamo a Chieti e poi la grande guerra in mostra poste italiane nelle scuole parte bassa della pagina di Chieti del messaggero lo investì in ubriaca muore a 46 anni e poi esplosione nella roulotte ustionato un 44enne a Bucchianico ricoverato al centro grandi ustionati dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma siamo a Lanciano truffa poste sequestrati pure i buoni il GIP Massimo Canosa ha disposto il provvedimento nei confronti dell'impiegata 35enne indagata Lanciano feste di settembre le altre novità arrivano da amici e poi a Tessa a Oniwell nel caos il ministero boccia la cassa integrazione Lanciano vaccinazioni Lions in prima fila nelle scuole in basso San Salvo Pingilton dubbi sul piano da 30 milioni Ortona strisce blu sosta libera per i disabili siamo alla pagina di Teramo del messaggero dopo la violenza in centro ora si chiede più sicurezza a pochi giorni dall'episodio di via del baluardo i residenti sono letteralmente sul piede di guerra quella di ieri è stata la giornata della legalità anche a Teramo c'è stata una importante manifestazione oltre 700 gli studenti che hanno partecipato proprio alla giornata della legalità che si è tenuta nella sede dell'università di Teramo allora possiamo andare a vedere il servizio su questa manifestazione servizio curato da Tania Bonnici Castelli gli uomini passano le idee restano e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini per il 26esimo anniversario delle stragi di Capaci di Via D'Amelio nell'aula magna dell'università di Teramo si sono ritrovati studenti ed istituzioni per riflettere per ricordare i giudici Borsellino e Falcone e gli uomini della scorta morti con loro ma soprattutto per darsi da fare qual è il messaggio che oggi lei ha rivolto ai ragazzi di Teramo ma poi a tutti i ragazzi d'Italia in fondo noi oggi partecipiamo a una giornata di ricordo di commemorazione di ricordo però la commemorazione di ricordo diventano lo strumento per rinnovare un impegno quotidiano che è un impegno di tutte le persone che hanno dei ruoli istituzionali come la magistratura le forze dell'ordine ma è un impegno anche per i ragazzi un messaggio importante perché la scuola è sul campo la scuola fa tante cose fa tanti progetti ma presenta tante iniziative ma la scuola vive la sua quotidianità anche oggi qui nel convegno si è ribadito che l'idea della legalità permea l'attività di tutti noi e deve quindi essere esercitata vissuta nel quotidiano a condurre la giornata in ricordo di Borsellino e Falcone all'università di Teramo è stato un commosso Flavio Insinna che ha accettato di svolgere il ruolo di moderatore non per lavoro ma per impegno sociale impegno che da anni l'Ateneo Teramano dimostra concretamente con l'istituzione di una scuola di legalità che organizza giornate di studio e riflessione è stata una volontà molto forte sia da parte del rettore ma devo dire degli organi accademici quella di istituzionalizzare la formazione nella legalità è chiaro che il nostro Ateneo con la facoltà di giurisprudenza di scienze politiche di scienze della comunicazione ma devo dire anche le facoltà scientifiche ha dei momenti di formazione che riguardano la legalità e l'etica delle professioni però l'idea di raccogliere in un'esperienza nuova proprio istituzionale la formazione sulla legalità ha fatto partire questa esperienza oggi si diceva che non c'è libertà senza legalità ma noi vogliamo dire che non c'è legalità senza libertà nel senso che quello che noi dobbiamo formare e costruire è il desiderio la voglia la motivazione libera consapevole di voler essere nella legalità la legalità non può essere subire la norma subire la legge o sentirsi in qualche modo irretiti da una normativa che ci impedisce di fare ciò che non vorremmo ma deve essere questa adesione da parte dei giovani ma di tutti noi a voler liberamente costruire una società che sia giusta e che quindi sia rispettosa di ogni diritto e di ogni riconoscimento dell'uomo siamo ancora alle pagine di Teramo del messaggero Anas spuntano le mazzette nel caso del capo cantoniere poi in basso treni quasi in collisione sei persone a giudizio andiamo avanti siamo a Giulianova una battaglia a colpi di siringhe scene da far west in piazza della stazione tra due gruppi di tossici uno ferito da una bottigliata e ci sono tre denunciati ancora Giulianova balneabile il tratto alla foce del Tordino poi Cronaca ruba un'auto ne tampona due e scappa lasciando la refurtiva in basso siamo in Valle Vibrata controguerra Scarpantonio va avanti lo scultore Perilli in campo a Nereto e poi Alba Adriatica Viviani si parla di elezioni una lista creata con le idee proseguiamo ma siamo arrivati alle pagine dello sport allora prima di parlare di sport andiamo a vedere le pagine interne del quotidiano La Città si riparte dalla cronaca regionale da quello che è accaduto domenica scorsa a Francavilla la piccola Ludovica non era stata sedata tragedia del viadotto la testimonianza del mediatore intervenuto per parlare con Fausto Filippone e poi tecnologia un videogioco ambientato nei laboratori del Gran Sasso in basso scarsa visibilità e disorientamento del pilota alla base dell'incidente resi noti i risultati dell'inchiesta condotta dall'Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo sulla tragedia dell'elicottero del 118 il giallo di Tortoreto Giulia è stata uccisa prima di essere gettata la criminologa Roberta Bruzzone esclude che la ragazza si sia lanciata da sola dal Cavalcavia chiusa l'inchiesta sugli appalti post-sisma per chiese e monumenti tre terramani coinvolti verso l'archiviazione e la posizione dell'ex sindaco di Cerminiano Aldino del Cane andiamo a vedere un'altra pagina del quotidiano la città riciclaggio chiesto il processo per Carlo Ciapan avrebbe fatto sparire 241 mila euro di fondi pubblici del progetto sull'allevamento dei muli mai avviato strappa la camicia di una ragazza picchiato al bar ubriaco finisce il pronto soccorso dopo aver molestato i clienti del Babila denunciato dai carabinieri e poi il concorso all'Alessandrini di Teramo la fase provinciale del premio scuola digitale i debiti Team finiscono in campagna elettorale per Gianguido D'Alberto il centrodestra li ha scaricati sulle spalle della futura amministrazione in basso ancora Teramo al voto gli studenti chiedono l'assessorato per l'Ateneo il Consiglio approva il documento da sottoporre ai candidati provincia sorgente a scarico per i lavori nel traforo protocollo di sicurezza per la tinteggiatura disagi in diversi comuni e critiche degli ambientalisti in basso allarme per il fratino rischia di scomparire dalle nostre spiagge nidificazioni in calo su tutto il territorio per il WWF i maggiori danni sono quelli provocati dall'essere umano inchiesta bis sulle concessioni ANAS dal finone principale scaturita un'altra indagine che ipotizza l'abuso d'ufficio e poi Montorio al voto dunque siamo alle amministrative Abruzzo Civico al fianco di Enio Facciolini proseguiamo con un'altra pagina del quotidiano la città ancora amministrative ci spostiamo ad Alba Adriatica il sindaco Piccioni preferisce non schierarsi il primo cittadino uscente escluso dalle elezioni non dà indicazioni non vedo liste di centrodestra dice il sindaco cronaca spacciatori albanesi finiscono in manette grazie ai blitz della squadra mobile in basso festa del vino di primavera a Colonnella appuntamento sabato e domenica con i prodotti del territorio siamo a Giulianova allarme sicurezza dopo la rissa davanti alla stazione l'ex assessore Grimi preoccupato palpabile il maressere degli esercenti politica Mastro Mauro resta vicino al popolo ed esclude il ritorno nel PD in basso l'iniziativa Giulianova al convegno sulla nascita della cieco slovacchia Walter De Bernardinis ospite dell'evento che si terrà oggi in piazza Venezia a Roma sei a giudizio per il disastro ferroviario sfiorato nel 2017 a luglio un treno merci e un regionale hanno rischiato di scontrarsi tra Roseto e Giulianova Atri al teatro comunale la manifestazione conclusiva del progetto fischio siamo a Roseto il piano naturalistico sarà ad impatto zero Sabatino di Girolamo il sindaco di Roseto annuncia l'azzeramento di risarcimenti per i diritti edificatori dei privati in basso Colonia per vedere la nuova palestra si dovranno attendere almeno due anni Pavone Racchiuti e Di Marco scusate critici con l'amministrazione comunale per aver bloccato l'iter per la realizzazione pagina della cultura un inconfondibile protagonista discreto compie oggi 90 anni Umberto Russo infaticabile il suo lavoro per la cultura della nostra regione possiamo passare dunque allo sport allo sport iniziando con le prime pagine dei quotidiani nazionali Carletto 007 missione anti-Juve firma con il Napoli Suso e Vidal i primi obiettivi per la formazione partenopea il corriere dello sport Morata vede la Juve incontro a Milano tra il giocatore il manager e Paratici missione Gold Napoli Ancelotti ha firmato per tre anni sarà il nuovo tecnico per quanto riguarda la formazione campana e poi c'è una notizia importante che riguarda la serie B Bari a processo playoff rinviati udienza anticipata domani in sette giorni la nuova classifica tutto sport Juve trappola Morata incontro a Milano tra Paratici e l'attaccante spagnolo che intanto è diventato l'obiettivo principale dell'Atletico Madrid andiamo a vedere le pagine che riguardano lo sport dal centro Napoli ecco Ancelotti per lo scudetto Juventus è partito l'assalto a Morata Giro d'Italia che sta arrivando alle fasi conclusive decisive Viviani re degli sprint poker bagnato a Iseo e poi il Pescara possibile ritorno di fiamma per Melchiorri forse domani l'incontro con Pillon e Repetto per il rinnovo dei contratti entrambi i contratti scadono al 30 giugno e poi a Letto Manopelo la febbre blocca Verratti assente al Memorial Belotti proseguiamo ancora il Pescara in primo piano con l'intervista l'ex Biancazzurro Michele Gelsi annata storta ma il Pescara dice Gelsi ripartirà alla grande Campitelli a Roma a caccia di nuovi soci per il Teramo il presidente dei Biancorossi insieme al direttore generale Capaldi sta sondando eventuali investitori pronti ad aiutarlo e poi i playoff di Serie C la Sambola Pisa eliminato Cosenza e Feralpi vanno avanti San Nicolò e Virtus Teramo torniamo al calcio di casa nostra verso la fusione le due società pronte a unire le forze il tecnico Montani e i saluti il Francavilla su Cafiero in basso a Chieti Di Giovanni il nuovo presidente cambia l'assetto dopo le dimissioni di Trevisan Trovarello sarà il direttore sportivo proseguiamo pallannuoto il mancino in cattedra Pomilio Pescara lavora per un nuovo ciclo d'oro reclutamento e nuove metodologie di allenamento per il rilancio della pallannuoto pescarese si è cortona alle grandi manovre pallavolo di a due contatti con gli schiacciatori Bertoli Galliani e Dolfo andiamo avanti il basket Marini un rosetano nel Little Basket il 24enne De Loiesi per la prima volta nella selezione azzurra vediamo in alto il volley di serie B1 Altino KO a Sassuolo in semifinale e poi il calcio a 5 lunedì sera scatta la corsa Scudetto di fronte la Luparense e la formazione pescarese dell'Acqua e Sapone e poi Pugilato il 2 giugno a Chieti Cavallucci sfiderà Trotta lasciamo questa pagina e lasciamo lo sport del centro per andare a vedere cosa si dice sul messaggero del Pescara perché Sebastiani presidente della società Bianca Azzura stringe per Piloni Repetto in partenza il DS Leone sondato dallo Spezia bisogna fare cassa subito al suo posto potrebbe arrivare uno tra Bocchetti Nember o Antonelli De Rosa e Teti il miracolo Virtus Verona e Abruzzese e in basso Teramo Zichella convocato l'outsauder per la panchina e l'ex allenatore del Francavilla Iervese Crisi L'Aquila Ius presenta il suo piano lo formalizzerà solo l'avvocato Gulluni di l'azione del debito per salvare il titolo sportivo e poi Roseto Avantina due coach nel mirino dopo la salvezza poi la mezza pagina del giovedì dedicata al calcio Wisp sul messaggero Kral Tiki Taka City Eco Alpi ok andiamo a vedere infine lo sport dal quotidiano la città si parla di Teramo in particolare ad inizio settimana c'è il vertice con Zichella il tecnico Giovanni Zichella che aveva chiuso la stagione percentuali stabili per l'allenatore se verrà confermato ci sarà una vera rivoluzione nella rosa in basso automobilismo la 57esima edizione della Coppa Paolino Teodori sarà di Valenza europea e noi siamo giunti così al termine dell'appuntamento di oggi con Mattino 6 io ringrazio Claudio Di Giacomo in regia ringrazio voi per averci seguito vi do appuntamento per quanto riguarda il prossimo appuntamento informativo della nostra rete alle 14 per la prima edizione del TG6 ma vi ricordo questa sera come ogni giovedì in diretta alle 21 dei nostri studi il appuntamento imperdibile con Velo con Jacopo Forcella e con Luciano Rabottini per parlare di ciclismo è davvero tutto buona giornata grazie a tutti grazie a tutti